La Casa degli Italiani, questa associazione, questo gruppo di soci, nasce da 150 anni, siamo nati 150 anni fa e lo scopo principale è la beneficenza, quindi noi quando hanno incominciato i nostri antenati si sono riuniti e praticamente erano gente benestante che non facevano altro che aiutare tutte le altre famiglie che bisognose avevano bisogno di aiuto e ancora oggi si continua su questa linea. La associazione va nascere rapidamente, fa 3 anni, per juntare le italiane e italiane d'esquerra e tutte le d'esquerra che vivono a Cataluña e a Barcelona, soprattutto. Sempre con la collaborazione, come è possibile, con le associazioni catalane o spagnoli, se mi fanno qui o nel suo lavoro del mondo. E, chiaro, va essere fondata come associazione per gli italiani e gli italiani d'esquerra, però mai va essere una associazione che parlava solo gli italiani e gli italiani. Non, non, al revés, ho deciso di col·laborare con il tessi cultural e politico di questa città del primo dia.